ma buongiorno buongiorno benvenuti in un nuovo video sul canale benvenuti sul canale benvenuti se siete nuovi bentornati se siete già iscritti se non siete già iscritti iscrivetevi ve lo dico già subito allora oggi registriamo iniziamo registrare un blog vediamo quanto durerà questo questi giorni se mi seguite su instagram ovviamente lo sapete già ma io ve lo dico anche qua sono andata dal notaio abbiamo avuto il rogetto della casa sono ufficialmente proprietaria di casa mia che non è questa quindi mi trasferirò sono felicissima la casa è bellissima mi piace tantissimo c'è un sacco di spazio e sono molto contenta i bambini sono contenti siamo tutti contenti abbiamo fatto il trasloco dalla casa piccola alla casa nuova questa che è la casa patronale la casa grande il trasloco lo faremo quest'estate perché al momento non è non è fattibile perché i bambini che vanno ancora a scuola e quindi fino a giugno che mio figlio agli esami starò qua però per evitare di trovarmi quest'estate con tutto da fare ovviamente ho iniziato a fare le prime a portare le prime cose di là quindi stamattina ho fatto il primo scatolone con i cd ho iniziato a mettere via i cd dvd film e quelle cose lì ma avendo la macchina piccola io posso portare uno massimo due cartoni quindi mio figlio invece ha preparato già un borsone pieno di vestiti che vuole portare nella casa nuova mi sono portata via cose essenziali tipo la tovaglia per il tavolo perché sennò si rovina il tavolo un paio di detersivi che di là mi mancano ma di qua ho le scorte quindi mi porto via i detersivi di qua senza che vado a ricomprare la roba e stavo valutando proprio ora che mi porterò via anche una delle due macchine del caffè quella della martello c'è il video sul canale della recensione delle due macchine che ho a casa e quindi mi porterò via quella intanto e così almeno una delle due è già lì e poi valuterò il tutto vi ho già detto su instagram mi avete già scritto quando è che fai il tour della casa ci fa vedere la casa al momento non è fattibile cioè c'è un macello in giro per casa i cartoni gli scatoloni del trasloco siamo riusciti in due giorni a svuotare tutto però diciamo che ancora non è come la vorrei quindi appena la casa è come la voglio io e come piace a me vi faccio il tour comunque qualcosa intravedete sicuramente su instagram intanto avevo un sacco di idee per quanto riguarda il salotto della casa nuova ma perché noi abbiamo comprato casa ma l'abbiamo presa completamente arredata cioè noi abbiamo comprato la casa quindi i muri e tutto il mobilio il mobilio non so cosa ho detto tutti i mobili la cucina il bar tutto c'è tutto mancano solo i due letti singoli dei bambini che al momento dormono tranquillamente sul divano letto matrimoniale e quindi ci stiamo ma appena andrò via di qua mi porterò via i letti singoli in modo che ognuno poi abbia la sua camera completa e giusta ovviamente ma ovviamente al momento mi servono qua i letti quindi non li porto di là dicevo avevo un sacco di idee sul salotto della casa nuova perché la proprietaria di prima l'ha disposto in un modo che a me sinceramente non piace ma vivendoci dentro i primi giorni mi sono resa conto che per quanto non sia esteticamente bellissimo è molto funzionale il modo in cui ha in cui ha disposti i mobili quindi la mia idea era girare i mobili girare il divano girare il mobile punto dove va la tv ma effettivamente come è sistemata ora è veramente molto molto funzionale quindi valuterò nel tempo tanto comunque fino a giugno farò avanti e indietro e quindi adesso vedremo un attimo come sistemare il tutto al momento lasciamo tutto com'è abbiamo messo due tre mobiletti che avevamo in giro per la casa piccola la cucina della casa piccola l'abbiamo regalata i comodini non ci servivano perché li avevamo già quindi diciamo che c'è tutto e manchiamo solo noi però fino a giugno appunto ci sono gli esami di terza media e quindi non possiamo non me la sento neanche di spostarlo a febbraio marzo e fargli fare due mesi poi magari mi rischia di non passare la terza media per il trasferimento no quindi al momento non gli faccio neanche pensare al trasloco però ho già fatto quasi tutte le ultimato quasi tutte le iscrizioni nelle scuole nuove e quindi sono molto molto contenta molto molto avanti anche con le cose adesso da adesso a giugno farò un paio di cartoni a settimana e li porterò nella casa nuova appunto in modo da non trovarmi con tutto da fare detto questo io nel frattempo vado a vestirmi perché vado in cantina a recuperare la scatola della macchina del caffè perché io sono un'accumulatrice di tutto ma mi tengo anche ho una mania la mania di tenermi le scatole di tutto quindi degli elettrodomestici delle televisioni io tengo gli scatoloni le scatole originali di tutto e quindi adesso andrò in cantina a recuperare la scatola originale del della macchina del caffè e imballo un attimo la macchina del caffè e poi vedo un attimo volevo registrarmi registrarvi un video tutorial per san valentino una cosa veramente molto molto semplice non so se uscirà prima dopo il blog non so ancora quindi adesso volevo un attimo organizzarmi ho veramente un'ora per fare tutto devo anche sistemare tutti i gatti di nuovo fare le vettiere stare insomma guardare un attimo di cose tra l'altro vi dicevo su instagram sempre nelle stories che per ovviare al problema dei gatti in casa delle lettiere più che altro non del gatto poveri gatti per ovviare al problema dell'odore delle lettiere ho comprato lettiere chiuse per limitare gli odori insomma delle lettiere una me l'hanno regalata mi è stata regalata una l'ho acquistata in negozio da arca planet e ho fatto un altro ordine un paio di giorni fa sul sito sullo shop online sempre di arca planet che arriva però martedì 7 quindi settimana prossima e ho comprato altre tre lettiere chiuse due sabbiette due sacchi di sabbiette quelli da 10 litri e un giochino per i gatti ho comprato anche questo l'ho comprato tipo mezz'ora fa un tiragraffi perché appunto casa nuova devono marcare il territorio e più che altro si fanno le unghie sul divano e la cosa mi dà fastidio perché il divano è nuovo e vorrei cercare di salvaguardarlo quindi abbiamo deciso di comprare un tiragraffi dicevo abbiamo deciso di comprare un tiragraffi e siamo andati un po in giro questa settimana per i vari negozi da negozi di animali ma anche dai cinesi siamo andati a vedere un attimo cosa c'era nei negozi ma hanno dei prezzi spropositati cioè solo il tiragraffi con la pedana e un palo mi costava 40 50 euro sinceramente mi sembrava un po troppo per una cosa così piccola per quanto io abbia in realtà le corde in casa per rifare i tiragraffi volevo la base comprarmi la base e poi eventualmente quando i gatti li rovinano ci rifaccio le corde e quindi però mi serviva la base sostegno tutta la base insomma quello che ho a casa io che il castelletto che ho a casa io come tiragraffi l'avevo preso da lidl ma da lidl non ci sono più quindi mi ho trovato un altro da aldi ma da aldi mi costava 60 euro e era più piccolo di quello che ho a casa quindi mi sono arresa ho detto andiamo online sono andata su amazon e ho trovato un tiragraffi veramente veramente carino è più grande di quello che ho a casa io che ho comprato da lidl e mi mi è costato molto meno cioè nel senso costa molto meno di tutti quelli che sono in giro quindi vi lascio il link sotto nell'info box del tiragraffi perché conviene cioè ne vale veramente la pena secondo me deve ancora arrivarmi vi farò sapere se la struttura è ottimale quindi seguitemi su instagram o negli short insomma vediamo un attimo dove vi farò vedere il tiragraffi montato arriverà anche quello martedì quindi settimana prossima però ha tre piani più la cucetta e costa sui 35 euro ve lo dico e è veramente veramente un prezzo ottimo perché andando in giro per i negozi i prezzi sono quasi il triplo quindi per una struttura così grande quindi vi lascio sotto il link nell'info box ovviamente un link di affiliazione quindi io prenderò una minima percentuale ma tipo l'uno per cento non so neanche io quanto quanto è l'affiliazione amazon devo dire la verità e detto questo io vado a togliermi il pigiama e vado a prepararmi tra l'altro volevo farvi vedere ma ve lo farò vedere dopo mia suocera mi ha regalato una pigiama che poi secondo me non è un pigiama perché secondo me morì di caldo mentre dormi ma è una tuta che userò per stare in casa e la userò tantissimo e è pelosa come questa ma bellissima cioè quando me l'ha data l'altro giorno ero felicissima cioè sembra una bambina praticamente quando mi regalano queste cosine che mi piacciono tanto e quindi ovviamente anche quella è già impacchettata per andare nell'altra casa perché di là fa un po più freddo e basta vado a togliere il pigiama e iniziamo a fare quello che devo fare allora volevo farvi vedere il pigiama che mi ha che mi hanno regalato e è così col pantalone lungo e è tutta pelosina bellissima e un'altra cosa che ho comprato qualche giorno fa è questa felpa della pyrex credo si dica che devo portare da lavare ma va bene ma lo stesso è bellissima è di questo color avorio crema con i filini leopardati e sul retro a questa stampa ve la faccio vedere perché l'ho trovata in un negozio di quelli a caso dove entri un po per sbaglio e io vorrei il pantalone uguale quindi se per caso ve ne intendete di questa marca e sapete dirmi come si chiama il modello io vado a cercarmi il pantalone ma cercando su internet la marca con scritto color crema leopardato non lo trovo quindi se riuscite ad aiutarmi volentieri ma comunque è bellissima e comodissima soprattutto allora parte questa bellissima inquadratura sono andata in cantina e c'è troppa roba e non sono riuscita a trovare la scatola ma io sono sicura che c'è quindi durante poi lo svuotamento della mia cantina sicuramente lo troverò quindi ho deciso che prenderò questo bellissimo sacchetto e ci infilerò la macchina del caffè che ho già staccato però devo prendere la presa non ci riesco quindi l'abbiamo messa in un sacchetto adesso ci metto dentro le cialde e tutto il resto avendo un cartone in meno perché è un sacchetto occupa un po più mettibile nella mia macchina ho deciso che porterò via dalla cantina perché visto che sono andata a vedere cosa c'è tutte le cose ricambi le cose della folletto cioè del folletto e che ovviamente è nell'altra casa quindi mi terrò solo solo il lavavetri della folletto e tutto il resto lo porto via così è tutto insieme e niente vado a mettere via le cialde di questa macchina così mi si libera anche il mobile del caffè e ho un po più spazio dopodiché sono quasi le 12 quasi le una e aspetto mio figlio vado a recuperare l'altro figlio che arriva dallo stage e mangiamo e partiamo nel prattempo ho fatto le lettiere ah no devo andare a cambiare l'acqua ai gatti dargli da mangiare e poi partiamo devo trovare anche un negozio che venga ricambi della black and decker perché mi si è rotto il caricabatterie della della aspirabriciole cioè se proprio tranciato e quindi devo proprio cambiare il caricabatterie ma non so dove trovarlo ok ho dovuto fare una pausa perché mi ha contattata un numero che non conoscevo era il venditore del famoso tiragraffi che vi dicevo prima e in pratica nell'ordine online cioè nell'ordine di amazon non aveva registrato il cognome sul campanello quindi ovviamente sto poromo non sapeva chi indirizzare il pacco non adesso devo andare a verificare su amazon perché non mi si sono salvate le le impostazioni di cioè non mi si è salvata il cognome per la spedizione cioè non è la prima volta che ordino su amazon quindi non so cambiando ovviamente ho cambiato indirizzo perché le cose me le faccio arrivare nell'altra casa ma evidentemente ho sbagliato qualche cosa quindi adesso vado a verificare nel frattempo ho caricato le cialde e metto anche questo ah no manca il manca il serbatoio dell'acqua che avevo lavato quindi mettiamo anche questo e il tappo del serbatoio e quindi adesso la macchina è pronta i sacchi dei sacchetti che dovevo portarmi via sono pronti il borsone di mio figlio è pronto vado solo a caricare in macchina le cose della folletto a no mi mancano i bidoni della differenziata che io ce li ho qua fuori ma mi servono di là perché qua ne ho troppi o anche troppi bidoni capito per la ricolta differenziata e adesso carico i bidoni carico i sacchi il sacchetto della macchina e il borsone e recupero i figli quindi credo di avere la macchina abbastanza piena perché qui c'è il cartone la macchina del caffè i bidoni che ovviamente vanno puliti questo è un profumatore per la macchina che non posso attaccare perché sull'accendisigari c'è il caricabatterie qui ci sono altri sacchi e sacchetti e ci sta più niente cioè ci stiamo solo noi quindi basta chiudiamo ok sono arrivata nell'altra casa ho sistemato qua la macchina del caffè qua ci sono delle cose che devo sistemare devo mettere via ho finito di mettere a posto tutti i cartoni tutti i sacchetti che avevamo in giro mi manca solo un sacco di vestiti che però è tutto da mettere in lavatrice la lavatrice è occupata e sono riuscita a portare tutto l'unica cosa che alla fine non ho portato sono i ricambi del folletto perché ho portato pentole pentoline piatti bicchieri che non che non mi servivano di là quindi avevo la macchina ancora più piena e adesso mi godo un po la giornata c'è un sole meraviglioso vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa ma c'è un sole meraviglioso e la casa nostra c'è una vista panoramica di tutto il borgo meraviglioso i miei figli sono ovviamente al campetto a giocare a calcio e al sole si sta veramente veramente benissimo gli occhiali l'erci adesso andrò a calavarmi gli occhiali e oggi passerò la giornata proprio in tranquillità stamattina ho dormito fino a tardi perché mi sono svegliata veramente tardissimo sono abituata ad avere la sveglia alle sei e mezza sette al massimo invece oggi me la sono proprio goduta me la sono presa con calma anche stamattina oggi pomeriggio darò una rassettata a casa sono talmente innamorata di questa casa che anche pulire lavare sistemare per me è una cosa meravigliosa quindi oggi me la prenderò molto comoda una cosa che ho comprato aspettate che cancello le cose di mio figlio allora una cosa che volevo farvi vedere è che ho comprato questa bellissima lavagna l'ho comprata più o meno un anno e mezzo fa e ma adesso appena c'è sto sole appena stucco questo muro dove la proprietaria di prima aveva attaccato televisioni cose appena stucco il muro gli do un attimo una passata di bianco e attaccherò la lavagna lì in cucina che è molto molto comoda volevo prevedere che appunto nella funzionalità del salotto c'è questo bellissimo telo verde che non so se mi servirà per registrare video o non lo so che ha la funzione di togliere il riflesso della finestra col sole quando si guarda la tv quindi il salotto così mi si divide perfettamente a metà io sono lì sul tavolo adesso che sto lavorando sto facendo cose editando e facendo lavori miei lì sul tavolo e c'è il telo verde che permette al mio compagno di guardare la televisione senza riflessi e senza che ci disturbiamo l'un l'altro praticamente un'altra cosa che ho fatto è attaccare questo adesivo murale che ho comprato anche questo tantissimo tempo fa e però aspettavo il posto giusto dove attaccarlo quindi l'ho attaccato qua e su questa parete che adesso è davvero troppo bianca andranno attaccati tutti i quadri di famiglia mentre sulla parete di qua da qualche parte ho già detto mio compagno che mi deve disegnare un bellissimo albero della vita del quale io sono innamoratissima dove appenderò tutti i miei quadri che ho adesso nella casa vecchia avrete visto il mio muro pieno di foto pieno di cose ho un gatto che ha scoperto la zanzariera allora in pratica noi in tutta la casa tutte le finestre tutte le porte finestre abbiamo le zanzariere ovunque e i miei gatti vero joker non hanno mai visto una zanzariera perché avevo provato a metterle ma me le tirano giù adesso l'unico problema è che se loro scoprono le zanzariere si fanno le unghie e me le bucano vero quindi devo ovviare al fatto delle zanzariere adesso joker sarai così in braccio tutto il giorno perché così non vai a farti le unghie sulle zanzariere bene allora vi ho fatto vedere un pezzetto di casa non non è tutta qua ovviamente e martedì arrivano tutte le cose nuove che ho ordinato spero anche il copridivano perché al momento ci siamo arrangiati con i teli ma non ci piace e basta adesso sono già pronta con spray e pezzette vado a dare una rassettata a casa finisco di lavorare di fare i miei lavori qua e ci vediamo in un prossimo video mi raccomando seguitemi anche su instagram mettete un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao